Ciao a tutti e a tutti! Oh, ci siamo riusciti alla prima volta, ragazzi! Bravi, eh? Bentornati e benvenuti in un nuovo video! Oggi come vedete non sono sola, abbiamo due persone, addirittura non una, ma due persone! Presentatemi! Lei la conoscerete già, basta che si mette di profilo e la scansiono automaticamente. Quindi, regginate gli illuminati! Vedete ragazzi! Vi lascio il suo canale qua sotto, anche se apparentemente è ferma, ma forse spereremo in un ritorno. Io non vi ho detto niente, andiamo avanti! Questa è anche a me con me! Questa è Giorgia, ormai la conoscerete tutti, è mia sorella presente e vi dici ciao! Ciao! Ciao, sono Giorgia! Sono la sorella di Laria! E basta! Lei è un'abitura dei miei video assaggi, lo sapete, lo facciamo sempre insieme e stavolta Giulia l'ingorda si è avuta a Giulia. Il bello li ho proprio scritto io, eh, io ho detto se non fai questo video con me, hai chiuso, cioè... Esatto, quindi non potevo permettermi questo e siamo qui a fare i video assaggi delle cose americane, quelle belle stunte, grosse... Capito ragazzi, capito perché ho voluto venire? Perché non è l'assaggio cinese, ma è l'assaggio americano, cioè... E vi dico solo che stavolta ho esagerato. Loro non sanno che cosa ho preso, sono io l'unica a saperlo, quindi adesso lo scopriamo insieme. Allora, vi dovete solo dire se potete iniziare con una cosa dolce o salata. Ma io direi da pescà, non è a busta quello che capita, capita. No, ma sta, ma... Ma sta, ma... Benidadera? Dai, proprio... Col benidadera? Una cosa un po'... Un po'... Dai, Giorgia, aiutami un po', un po'... Un po' misteriosa, ragazza, sorpresa, un po'... Siamo arrivati a trovarlo, ok, quindi siete pronti? Però pesco io, scusa mia. No, prima pesco io, poi lei e poi te. Ragazzi, ho pescato loro! Dio! Questi sono gli oreo al burro di arachidi. Io però devo essere un'essa... Che li ha già assaggiati, anche noi. Davvero? Veramente? Come no? Sì, li abbiamo assaggiati l'altra volta. Nel caso li avessimo già assaggiati... Non li li assaggiati. Beh, questi cambiano nel tempo, quindi... C'è da un po' di latte che faccio la... C'è da un po' di latte che faccio la... C'è da un po' di latte che faccio la... C'è da un po' di latte che faccio la... Prelevo, prelevo, prelevo... 3, 2, 1... Aspetta! Prima di dare un mozzico... Ricordatevi che dopo dobbiamo dare un voto. Da 1 a 5. 1, 2... Vabbè, questi managliano, vabbè. Non esiste il canzano. No? Io non sapevo. Vabbè, regà. Non è che lo puoi mettere mozzicato in una cosa, eh. Non è che lo puoi mettere mozzicato in una cosa, eh. Non è sempre giusto. Vabbè, quando ha finito, vuoi scoparare i due. Sto un po' allattata. Come sento il burro dei raghi, dopo... Non capito. Aspettate. Niente, è morto. Rullo di tamburi. Voto. Provate a indovinare. No, a 5. Ah, vedi. Io, 5. 3. Why? Non mi ha fatto un pazzesco. Vabbè, si è visto, me lo so mangiato il mio zio, quindi... Per me, 4. Quindi, ha ricevuto un voto complessivo di 9, ragazzi. Hai fatto i conti nel mentre. 5 e 4, non è a 9. Eh, ma come dice... È 3. Ops. Quindi, è stata tranquillosa. Ora pesca Giorgiz. Come vuoi, hai visto, capito? Giorgiz, Gwendy, Gwendy... Pesca dalla pesca! Sì, ma chiudi gli occhi e non parà, bella. Che cosa ha preso? Ma ecco, le cito scrunchie. Le cito scrunchie, che io sul sito, che tra l'altro non ve l'ho detto, questo assaggio è stato offerto da CiboUSA, vi lascio il link qua sotto. Grazie! Grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie mille, caro! Andiamo in conto a casa. Comunque, l'altra volta avevo preso il pacco tipo gigante, non l'avevamo finito. Assolutamente, quindi ho detto, stavolta prendiamo quello piccolo per un assaggio, va bene. Questo è, cara Giulia, sono le cheat scrunchie. Che sarebbe una patatina? Patatine? Sì, tipo fonzi. Ah sì? Tipo fonzi. Però, tipo fighe, è buone. Vabbè, tirò il capri. Peschiamone un pezzo, vi faccio vedere come... Perché sono un pezzo? Non è un pezzo. Com'è bello fluorescente. Non è una manciata. Dopo Giulia se li porta a casa per il ricordo. Ecco, io la più piccola. Vuoi fare un cambio? Eh, non è giusto. Hai i tuoi cambi possibili. Dai, questa mi piace, raga. Questa è una clava, pare. Comunque, trovatela. 3, 2, 1. No, ce l'ho sempre strano. Buone, sa proprio di chimico. Eh, bravo, è buono il formaggio chimico. Portaci. 5. Ma sei pazza? Cioè, hai detto che io re o no? Non so, sai che con il salato... Avvero. In amore solo. Vabbè, io ho due. No, io sempre tre. Non rimane standard, va bene. Vai, tocca a te pescare e guardato. No, no, dai, faccio così. Vado giù in fondo. Ma che cos'è, scusatela? Ma un ketchup, come on! Ma posso assaggiare un ketchup? Guarda l'immagine. Caramellizzato? Caramellizzato? Alla cipolla e bacon? Sì, ma ora come l'assaggio? Cioè, la ce l'è un cracker, una fitta di patria, non so, l'assaggio così. Certo, te lo spizzi in bocca e fatto. No, vabbè, ragazzi. Ma poi perché proprio io il ketchup ci ho fiscato? Perché li trovo in fondo, e poi li stanno quasi pesanti. Ho paura, ragazzi, di questo assaggio, eh. E dovevo... Apri la bocca. No, no, dai. Vai. Ma è una cosa porno, non si fanno ste cose, no. Morta. Quante aspro, mo' fiocce, mo' fiocce, mo' fiocce, mo' fiocce. Così è un po' troppo. Però, secondo me, sulla bocca, sulla carne si sente proprio la cipolla. Vero. Il caramello poco, secondo me. Vero? Perché è cipolla caramellata, magari. Ah sì? Non è la caramellata del ketchup, no. Non credo si possa fare comunque. Vabbè, comunque, io un quattro io lo darei. Bene, ci piace. Tu? Io pure. Vero? Io pure. Io userei anche un quattro e mezzo sulla carne. Adesso rinocca a me nel pescaggio. Pringles al miele e mostarda. Sì, poi io ero già contenta. Vuoi che ci stanno tre Pringles diversi? Mi fa schifo sia il miele che la mostarda a me. E invece io le ho. Fa che vuoi. Prima prova, odore. Chi è? Mi stampa di... Rega. Perché non lo so, chi è? Bum. Io faccio da sola, ragazzi. Le maso lo voglio. Poi l'odore non mi dispiace. Tre, due, uno. Ciao. Rega, queste stasera non ci stanno più. Allora, a me non mi piace né il miele e né la mostarda. Però... Senta poco. Eh, esatto. Si sente più a mostarda. Più a mostarda. Secondo me, ecco, ne mangi una va bene, ma io le Pringles le mangio tipo ammanciate. Io delle ripostate molti. Vuoto? Io gli do tre perché è buona, ma... Ok, ci sta. Ma non mi piace. Quattro e mezzo. Cinque. Ma è zonso se è buona? Adesso Giorgia! Pesca la pagnotta! Ma questo si è incollato. No, no. Ma queste cose che non mi piace. Eh, ma questo è dei Reese's. Eh, ma sono i pretzel, no? Comunque, questi non li avevamo mai provati. Sono i Reese's, anzi no. I pretzel. I pretzel ricoperti del coso dei Reese's. Odore? Sì. Sa un po' di buona, ragazzi. Senti? No, bello, tu ci sta panico. Ok. Oh, ma cazzo, sto chiedendo. 3, 2, 1. Giù la pagnotta. No. Amo. Che tipo. Mi amo. Amo. Ragazzi, riprendo un altro, per spesso. Lo amo. Trovateli in me, lo mangio questi oggi. Per me è un po' le 6 e 2. No, mai. Cinque. Io 4. Ok, posso starci. Adesso quando Giulia finirà di morsicare. D'accordo per scopo. Eccola. Ma dai, ma che è? La carne è sicchata. Oh, con la salsa della Yagi. Questa l'avevano messa nuova la tuta, però. La tuta, cioè, la semi riusciuta. Sapeva tipo mezzo di salame. Questa è la beef jerky. Sa tipo tutto crudo tenuta al sole. A me lo tu non piace. Se porto gli apri questo. Cioè, sembra tipo c'è la piccetta con la Calabresi. No. Ma è dura o morbida sta cosa? È duretta. Dura. Ma tipo le coppiette. Esatto, tipo. Che l'altra volta nel video non ci riusciva. Tutte sotto il video, come le avevate detto. Le coppiette. Eccolo qua. 3, 2, 1. Ma che... Io me lo so messo sotto un po' la ragazza. Buono. Ma la mia impressione c'ha sempre lo stesso gusto. Pure se t'era Yagi qua, t'era Yagi. Sa di coppietta, secondo me. Voto finale per questa carne siccata. 1. Io pure 1. Vabbè, io 3. Qualcosa da bere. Ma qualcosa da bere. Mi faccio provare questa cosa che è spaziale. Prima volta Dr. Pepper. Super 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 famous. Non ho mai capito che cosa hai sostanzialmente. Quella è famosa? Scoprirsi troppo. Lo scopriamo insieme. Non ho capito se è gasata. Probabilmente è gasata. Però non so se ha un gusto. Se scoppierà in questo momento. Però non gli infaccia. Le grazie. Non so di colpa che diceva. Non so di colpa che dice mica la cilietta. No ragazzi, ci non ho amarela. Oddio. Ok, distribuiamo il bicchiere. Il pane e i pesci. C'è un po' di vodka da mischiava a questa roba? Faccio un cin cin. Vai. 3, 2, 1. Cin e giù alla salute. Regà, la Coca-Cola che ha amarena. È zionissima. Mi piace. Spaziale Max X. Ce l'amo. Voto per questa bevanda. La nostra prima bevanda. 3, 3. 3, 3. Ammazza, non mi piace la Coca-Cola. Dopo c'è la Coca-Cola ciliegia. Quindi possiamo fare anche una. Quella è la mia preferita. Ok, quindi possiamo fare una. Versus, versus, versus. Guarda, vuoi farlo. Popcorn. Io ho i popcorn. Ecco, devo dire anche quello che stanno allora perché. Miele e mossa. Ma che palle, ma davvero. Senti, ho un'ossessione per il miele. Sì, no, ma vai. E questi sono i popcorn. Gary Poppins. Oddio, non avevo capito. Gary Poppins. Mary Poppins. Eh, ma chi è Gary? Domanda, chi è Gary, ragazzi? Cioè, voi sapete chi è Gary? Non lo sappiamo, probabilmente ci risponderà. Forse è la marca, Gary. Beh, direi. Quindi Gary Poppins. 80 calorie. Vabbè. Un col pacco? Sì. Vabbè. Niente, giove, io non fa mangiare. Io odio chi apre le cose al contrario. Lo sai, c'ho una malattia per chi apre le cose al contrario. Infatti mi hai tirata. Dai, un po' devi assaporare, se no non si capisce. Votare è di popcorn. 3, 2, 1, go! Mostraggio. Panico. Voto. Da 1 a 5 is... NC. Non classificato. L'ho classificato, lo sai. E anche 0, lei è sola. NC. NC. 2, 3, 4 e mezzo. Ah, e com'è? Mi ha detto faula, wow. Perché sono troppo pochi. Finiscono tutti i nostri. Ah, ok, quindi tu sai anche... Guardi anche le quantità... Certo. Ah, ok, si vero al... Si vero, ma giusto. Pesco io. Tocca a Giulia. Oh, guarda un po'! No, aspetta. Aspetta. Qui è pazzesco perché sono i brownies con le smarties dentro. Sì. Poi le apro, proprio così, ferocenente, proprio così, ferocenente. Je t'aime, je t'aime, twist. No, una ragazza proprio serbaggia e orgogliosa di mangiare in brownie. Ma saranno una proporzione? Come sono? Secondo me conviene aprirne uno. Ah, vediamo. E dividerlo in tre. Sì, esatto, ma quello che è forza. Ok. Ma che carino, guardate! Mi piace. C'è proprio le M&M's... Non c'è la vedere un po'. Proprio le M&M's originali sopra. Prese il brownies, lo spezzò e lo chiede alle sue compagni di viaggio. Cin! Mmm, sentite com'è chimico. Ma perché, sa? Sante le merendine nei discount. Mamma mia, lo amo. Senti, è un piatto questo. Quella cosa di olio di palma. No, c'è un piatto. No, c'è un piatto di olio di colza. Il mio voto è 5. È Pax Expo, lo amo. Pax Expo. Voto 2. Troppo... Ammazza, sei severa però, eh. Sì, troppo chimico. Io 2 e mezzo forse arrivo a 3 se proprio sto affamata, capito? C'è quello... Dici, proprio dipende. No, a me piace proprio 5. Perché si sente proprio... La consistenza è buona. Mmm. Non si bui. Vabbè, quello sì, nel senso, è proprio il sapore. Il mio assaggio stavolta è stato un assaggio buono. Perché fino ad ora non mi piaceva nulla perché ho pescato la carne, che era coppietta, e poi... Il chiesa... Il chiesa... Adesso io prenderò una cosa che a Giulia piace da morire, lo so, l'abbiamo purato, mangiato... È la cipolla. È la cipolla. Cipolla croccante! Sì, ma non è quella che c'è di due queste, ma cipolle croccante. Giuramelo. Lo giuro. No, vabbè, ragazzi. Sott'occhi enormi, sono proprio pezzi. Ma stiamo scherzando. Prendiamo ognuno un pezzo, a parte Giulia che ce la sente. Mamma mia, senti i condoni di cipolla. Giulia c'ha una cipolla e te. Mamma mia, ragazzi, mi mangiava proprio una cipolla per fissare. Poi, ieri, poi, a me, mi è rimasto un pezzo di traverso. Io, come un uomo, tipo, noi, l'altra volta, nel panino del Mac, a metterci la cipolla. No, non è di prossimo. Sì, vai. Tre, due, un. Chies. No. Chies. Ciao. Dai, piacciono anche a me. No, per me, compro. Mamma, parlo, una patatina e una cipolla. Buonissime. Cinque. 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 Giorgia Pesca. Prendi, dai, una cosa da bere. Tra le tre rimaste, questa e questa. Quindi, praticamente, hai visto. Ah, ok. Questa è la Coca-Cola che dicevamo prima. Alla ciliegia. Questa già le piace tanto. A me, no. Però, ok. Non ci facciamo, come si dice? Condizionare. All'odore. Tre, due, uno. No. Quell'altra è il più dolce. Sì, è vero. Ah, secondo me è identica. È pure sgrassata. Questa mi piace di più dell'altra. Però non mi ricordo quanto gli ho dato, onestamente. Quindi gli darò un tre e mezzo. Magari con l'altra gli ho dato quattro, ma non troverò. No, ho dato un tre, forse. Questa tre e mezzo, quattro in occasione di sete avuta. Ok, io ho cinque. Cinque e cinque. Sì, sono uguali. Cioè, nel senso, basta che bevo, insomma. Cinque. Giulia Pesca e pesca delle Pringles. Salute and vinegar. Flowers. Pringles. Ok, good. Ok. Buona. Mmm, c'è la svampatezza. L'acetino. Questa è un po' quello dolce e ti dico stop. Di questo ne assaggio due insieme. Perché è una cosa che mi piace. Sì, devo sentire bene il sapore. Ok, ci sei. Ok. 3, 2, 1. Ah, raga, sa un po' di frittura dei calamari. Ti giuro, no, no. Ti giuro. Come cavolo hai fatto? Non so, quella panatura... Brava, che metti il limone su, peraltro. Esatto. Come cavolo hai fatto? E' una panatura bella che fanno... Brava. ... sul lungomare di Ostia. No, più dei fiumicino, che più rogge, capito? Com'è andata? Te sopporto io, mo'. Mi rimane proprio il sapore dei Moscardino. Capito? Esatto. A me piace, a me piacciono. Voto. 5. Queste? 4. 4. No, motivo? Motivo. Dove piacciono i Moscardini? Tu perché 4? Non lo so, non mi hanno soddisfatto. Cioè, tu pensa alle queste. Davanti a Tempation Island. Come? Tempation Island. Tempation, come si chiama? Tempation Island. Tempation Island. Così, Tempation Island. Vabbè, allora immaginatevi le che ne so, davanti a uomini e donne, per me non è in italiano. Mi va a casa sul letto, che te ne mangi tipo a tre alla volta. E mentre ti immagini sta più vicino. Esatto. Cioè, dimmi, oppure te le porti a mare. No? Mentre stai sull'asciugamare al lettino. Sì. Che è ferita che te stai a pia una frittura. Sei così povera che te devi quando hai pringosci. Capito come? Capito come? Niente pringosci. Non stai a fare un business, no? È vero però, sapriamo un chiosco tipo al mare. Pringosci al muscatto. Pringosci al muscatto. Ora, assaggio dell'anno ragazzi. Buono. Pop Tarts. Questa volta. No, non parla. La faccio perplessa di Giulia dietro. Ma so, è dolce. Sono queste. Il gusto di questa volta è cinnamon rolls. Oh, mio dio, che cannella cinnamon roll. Oh, international. Oh, ma di buco. Ti conosci cinnamon rolls? Sai come sono fatti? Eccoli qua. No, e non neanche mi ispirano. Come no? Sono delle girelle. Tipo brioche. Con dentro la cannella e sopra la cremina di vaniglia. Ma bene, assaggio. Ma è vero, sai, i dolci mi piacciono. No, ragazzi, ha dei biscotti di Natale. Stava agosto, non lo so. Viva il Natale! Giulia, è vero. No, io lo amo il Natale. Ma agosto, cavolo, voglio andare al mare. Tre, due, uno. Ma che è? Il santo è vecchio. Oddio, un po' il santo è vecchio. Quando entri nelle stanze di vecchio, si hanno nella stavina. No, tipo che era aperto nel mobile. Hai visto quando andate a casa, tipo, di nonne, che non vanno buttati per le merendine e lasciano magari aperte che il nonno gli ha dato i pommozzi che ha rimestati entro. Uguale, ragazzi. Cioè, uguale. Io se devo dire che mi aspettavo meglio. No, so, mi rimane una cosa... Sai di cosa sa di strudel? Ti rimane quel sapore? Fortunatamente non ho mai mangiato lo strudel perché se... Ma ormai che ti piace questa cosa. Voto! N.C. Parte 2. Parte 2, N.C. No, no, non è vero. Questo è uno perché... Almeno mi ha ricordato un po' il Natale. Quindi ieri c'è stato un po' quel brio. Ok, perfetto. Bene, a me me l'ha spento il Natale. È stato proprio un Grinch. Io due. Tre e mezzo. Perché se la tua luvetta hai le loro. E poi eravate così con un trofeo illicito ma... Brava! Ecco, Monti, che cos'è quella cosa di vecchio. Ma la noce. Ecco cosa. Brava. Allora, scusa, a posto di fare il coso, la pop terza al Cinema Rolls dite la verità che è lo strudel. Infatti. È lo strudel, regà. Cioè. Se l'avete assaggiato ditelo. Grazie. Adesso, a chi tocca? Non si ingrugna. A me fanno veramente schifo le popcorn. Però gli Oreo le amo. Cioè gli Oreo non mi ha visto che mi preferisca. Regà! Oreo ai popcorn.